fratelli ognuno ci consideri come servi di cristo e amministratori dei misteri di dio queste sono le parole che paolo oggi ci dona e non possono non toccarmi me direttamente sacerdote e ricordarmi che io sono semplicemente un servo non un padrone dell'incarico affidato sono soltanto amministratore nel senso che mi ha affidato qualcosa di preziosa e paolo dice a me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano quante volte nel nostro ministero siamo schiavi dell'apparato di rappresentanza di cosa pensano gli altri di salvare la faccia quando invece come dice san paolo il mio giudice è il signore a me interessa avere un rapporto autentico lui a me interessa che faccia la sua volontà cosa dio pensa di me ma stessimo medesimo motivo lo troviamo anche nel vangelo quando gli sparisei gli scribi si trovano a criticare i discepoli perché non giudicavano e gesù dice ma quante lo sposi con loro come fanno a digiunare c'è la relazione con cristo la vera relazione con cristo ma cosa la gente si aspetta da me sacerdote se non vivere in cristo e trasmettere in cristo tramite tutti i pori della mia pelle che il mio giudice sia sempre dio padre che eterno misericordioso buona missio